raga buongiorno a tutti oggi siamo andati da eccellenze campane qui a ostia e abbiamo preso per pranzo questa diciamo torta rustica pizza rustica con olive e scarola ho preso questo salame sempre napoletano e poi abbiamo preso questa bellissima mozzarella affumicata raga guardate che bufala affumicata bufala affumicata e ora questa qua l'andremo ad assaggiare raga allora intanto assaggio questa qua a scarola con l'olive buona raga non c'è neanche bisogno di riscaldarla perché è veramente buona ora taglio la bufala affumicata e poi la massaggio ecco raga guardate che beva sta bella bufala guarda allora non la taglio non può dire vada qua raga guarda come come il succhetto guarda buona 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 questo è proprio loro sono proprio napoletani raga è veramente spettacolo sono tantissime cose raga e dire si trova in santa fata antonio via delle velieri via velieri 89 raga eccellenze campane io sto posto ve lo consiglio poi c'è pure il suo salamino che mo vabbè lo troverete a chiama ma già so che è buonissimo poi dopo vi farò un altro video con i dolci che ho preso comunque di adesso vado 10 raga a sto posto buon pranzo a tutti